Quali sono i diversi usi per una biopsia cerebrale? Una biopsia cerebrale è la rimozione chirurgica di un piccolo pezzo di tessuto cerebrale per diagnosticare malattie e condizioni del cervello. Viene in genere utilizzato per diagnosticare la malattia di Alzheimer, i tumori, l'infiammazione e l'infezione. Le malattie del cervello possono essere molto debilitanti e diagnosticare la condizione sottostante è il primo passo nel determinare le opzioni di trattamento. I medici ordinano biopsie cerebrali quando sulla base di altri segni sospettano che un paziente possa avere una malattia del cervello. I sintomi variano a seconda delle condizioni, ma possono includere perdita di memoria, confusione, contrazioni muscolari e forti mal di testa o vertigini. Le scansioni di immagini vengono solitamente eseguite prima di eseguire una biopsia cerebrale, sia per supportare ulteriormente la diagnosi sospetta sia per guidare il chirurgo nella posizione appropriata per la biopsia. I chirurghi usano tipicamente uno dei tre metodi durante l'esecuzione di una biopsia cerebrale. Durante una biopsia di un foro di bava, nel cranio viene praticato un piccolo foro sull'area in cui verrà rimosso il campione di tessuto. In una craniotomia, i chirurghi tagliano e rimuovono una piccola porzione del cranio per raggiungere il tessuto, e quindi sostituiscono il frammento del cranio dopo che la biopsia è stata effettuata. Una biopsia cerebrale stereotassica utilizza un computer per guidare il chirurgo sul campione di tessuto, che di solito è il metodo preferito, poiché richiede solo un piccolo foro. Il giorno della procedura, i pazienti ricevono anestesia locale o generale, a seconda dell'area della biopsia cerebrale. L'area della testa vicino al sito di biopsia viene rasata e pulita con un antisettico. Immediatamente dopo la biopsia, i pazienti vengono portati in una stanza di recupero fino a quando l'anestesia svanisce e sono abbastanza stabili da tornare a casa. Alcuni pazienti possono essere tenuti a rimanere in ospedale per un massimo di due giorni o più a lungo se si verificano complicazioni durante o dopo la biopsia. Dopo la rimozione di un campione di tessuto, un patologo analizza la biopsia cerebrale al microscopio per rilevare eventuali anomalie. Ad esempio, un paziente con la malattia di Alzheimer di solito mostra una raccolta anomala di placca nella corteccia cerebrale. Se si sospetta un'infezione cerebrale, il patologo preleverà un campione dell'organismo infettivo e lo identificherà per determinare il miglior corso di trattamento. I tumori al cervello possono anche essere classificati attraverso una biopsia cerebrale. Una biopsia cerebrale è una procedura invasiva e comporta dei rischi. Ogni volta che si utilizza l'anestesia, esiste la possibilità di una reazione avversa. La lesione cerebrale ha anche una possibilità, che può portare a vari sintomi a seconda dell'area del cervello interessato. Il tessuto cicatriziale che si forma sul cervello a causa della procedura può innescare convulsioni. L'infezione nel sito del taglio può anche verificarsi senza un'adeguata cura della ferita dopo la procedura. Un'attenta supervisione dopo la procedura può aiutare a minimizzare gli effetti di questi effetti collaterali.